Anfascia a tutti ragazzi qui a Canelupo aspettate se stiamo qua tac qui a Canelupo ed ora in poi il mio saluto sarà Anfascia e stiamo in compagnia di Sevenishot ed oggi come ho detto sulla pagina Facebook sulla pagina Facebook che inserà una nuova serie che uscirà ogni lunedì appunto oggi che si chiamerà free to play no non mi ricordo come cazzo si chiama la serie Canelupo approccia su tipo una cosa del genere ovviamente tutti i free to play e me li consiglierete voi infatti sotto questo video consigliatemi un gioco da fare free to play che non siano i soliti unfermario, unfercazza, unferculo unfascia allora ma non amo nel server sevenishot andiamo nel server cake or death questo gioco capito qual è? questo gioco si chiama Ogat ovvero off guard and tease che vuol dire guardie e ladri non so da chi è stato sviluppato non me ne frega un cazzo chi sei tu? no respost from the server non mi ruote il culo eh mo mi fate ruote il culo ma la stiamo insieme eh no non si non faccio e io posso giocare sull'aspective mode te vuoi stai gioca? vuoi stai gioca? chi siete? quest 5 8 8 5 no 6 7 0 8 trovato chi siete queste 6 2 3 6 no io so capito attenti vedo che io ma che queste siete? che cazzo divertire sei entrato? chi cazzo che so? ma vuoi esci? vai risparmi al server che coglione ci stai io ora eh qual è? entriamo in uno che si chiama guards and politicians ok? che cazzo sta ci sta ah si ecco 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 vi mostriremo questo gioco che è free to play basta che andate sui oh ma no ma non te vedo ecco ecco ah stavo insieme ah ah faccia go 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 faccia allora questo gioco basta che scrivete ogat su google e ve lo trova oh yeah video su youtube incoming bro eh ah ah già allora assalto o che piamo? i scout no assalto voglio rompere qua qualcuno molto semplice il gioco si spara con ah ah capito? il passo destro è levato e mettete la torscia dovete difendere gli obiettivi che i ladri dovranno rumpare noi in questo caso siamo gli agenti te la vite a cazzo faremo una partita da gente e una partita da ladri e poi se fosse un peco fia qua coglionato cazzo fatti no ah faccia 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 ahahah ahahah ho morto ahahahahah ahahahahah haa chi c'è qua? cade l'uomo nascondi no? ahahah antivurto o gg un po gg o faccio un castro la tua la tua vita mentre qui c'è qualcuno ma vai ok ok ho paura mi sto a cacca sotto c'è uno che sta andando a parte c'è uno che sta andando a parte cazzo spari uno c'è uno qua vicino vai solito sta qua dentro sta qua dentro la piccola era un po' mi pensavo vieni con me mano eccolo faccio ecco me dobbiamo coprire le uscite cacca quindi io apro questo non c'è riuscita ecco lei è la giusta eccolo vedi laggiù ecco lo vedo augusti di qua mettete qua manu veloce qua manu no qua qua di me quello bacio ha uscito a c eccolo sta la sta la ah ah faccia eh ma faccia avete vizio eh qui non passa nessuno mi piace oh nattro pure devo morire ma non mettete dentro st'cioce non si vede nessuno tipo cosi guarda così non so sì guarda dentro st'cioce non si vede nessuno non ti vede nessuno un pò più dietro e leva la torcia oh questo vuole consegnare roba consegni popo un cazzo un consigli consegni popo un cazzo oh 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 ho spara je meanu cattivo oh dì qualta mancano ancora due minuti ho finito i colpi ah ci stanno pure i colpi mamma ci stanno due lati dietro attento che cazzo vuoi quello no no comunque l'obiettivo da rubare è questo io vado a uscire ma non vieni ecco ah già l'ho sparato sul piede ah è che il ladro ti vedo guarda guarda ha flashato ma che cazzo faccia faccia ahahah ha perso gli temi da rubare voi avete tipo 10 item da tenere sotto controllo 10 cose ma in solo una ne può rubare cioè solo una deve rubare per portare a termine la missione tu non sai qual'è quindi esatto però il tempo oh c'è un ladro che sta ando a prendere la roba lasciatela sono due ladri qua lo stanno non mi chiede è uno ammazzatore sono un criminale guarda chi è là li vedo guarda chi è là li vedo guarda quattro montrenta protegge l'uscita chi c'è qua mani nato ma non gli è qua eh sei in shot faccia 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 non è quello è un alleato 25 secondi no 28 27 colta rovescia 25 t4 t3 t2 t2 20 oh oh no cazzo ahahah 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 chi è più forte? chi è più forte? olè sì 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 e ora facciamo i ladri sex and i no wait and i no wait ladri ladri olè ultima partita non cazzo devi sta zitto e abbuzzà non cazzo non cazzo non cazzo non cazzo usiamo i ladri facciamo le cose in acquato eccoci eccoci c'è anche la freccetta io prendo oh io prendo il coltello cazzo come si cambia l'arma a 1 2 cane cane andiamo aglio non so presto devo prendere più con il diamante devo dire lo so non devo prendere più con il diamante si ha messo il volo pure me eh eh in realtà a sinistra eh sì io me lo ricordo lo stacolo però prima spegno tutto ma perché mi sei che a me mi pedini ok teni qua luce teni qua luce attenzione ladro cane lupo via 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 ma ford aahhhh nooo c'era arrivato, vanno inculato stanno accamparà accamparà faccia te ah, ha cortellato un fascio questa accamparà uscita stai battuta la morte gg no, è un segreto me vedono ma non ho paura entra 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 un parkour entra col cartellino ragazzi pezzi di merda questo video c'era molto bello perché mi gusta questo gioco scappa come un coglione parola a a a a il bar ma a Pcchezza, pchezza Oh Dippo, Dippo, Dippo! Oh 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 oh! Erano mezza 3! Ma che devo fa' Aspetta, cliccaci! Grazie, metto questo gabbalest Ma lo ammazzai tutti, i malum, ammazzai tutti! Ma lo ammazzai tutti! Eh, ma lo ammazzai tutti! Ma sono tornato... Scusa, mi cambiamo classe, mettiamo questa! Ammazzalo qualcuno, quest 4 1 5 0! Ma questi campano dove cazzo rinasciavano? Ah! Ah mo, muovi in fascia! Ah, in fascia! Porco Kaila! Ah, non so! C'è proprio un c***o male! Mi è soccato, non va a f***o male! E' piccola, si chiama Ciuffa, e deve ancora bevellare! Si c**ico! Ah, e si! Aspetta, deve ancora bevellare! Non lo so! Non lo so immaginate! Vabbè, sto facendo dei città Nooo, figlio di puttana, avevo nascosto mezzo a mezzo a mezzo a mezzo a mezzo a mezzo Manu, manca un minuto, manca un minuto, ruba il piccone Dovete spengere sempre tutte le to- oh, cazzo UEEE, fucile a pompa pesante C'è un minuto acceso Cani lupo, sbotoni, uscita bene, c'è un minuto Mamma mia, 30 secondi, dobbiamo fare l'impresa, manu, 30 secondi Ok, vada Avvaggia, avvaggia, avvaggia Cori, corri, 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 che cazzo, corri Cori, corri, corri, corri Nooo, non stavo a riuscire ma stava a ghillare quello stronzo rotto in culo di merda Ok ragazzi, è finita qui la sfida, abbiamo fatto 1-1 I tf ovviamente sono i più difficili però Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto un bel like e condividete se vi va ovviamente Mettete mi piace alla pagina Facebook E ragazzi, mi ricordo di consigliare il gioco sotto Free to play da fare la prossima volta Ovvero il prossimo video Bella a tutti ragazzi, ragazzi, cani lupo Bella SaniShot